Dovranno ancora attendere i residenti di via San Calogero per vedere rimossa la discarica a cielo aperto. I lavori di pulizia dovevano essere eseguiti venerdì 20 febbraio ma l'assessore alla vivibilità e alla viabilità Medeo Falci ha deciso di rinviarli di qualche giorno per permettere l'installazione delle telecamere di videosorveglianza che serviranno da monito agli eventuali trasgressori. Un tema caro quello delle discariche a cielo aperto in città, la terza commissione consigliare all'ambiente che in questi mesi ha sollecitato un intervento da parte del comune. 10.000 le somme stanziate per ripulire quattro siti via Concetto Marchesi, via Laimo, via Filippo Turati e via San Calogero. La commissione chiederà anche all'assessore al bilancio di inserire nei capitoli di spesa una cifra per sostenere i cittadini nelle spese di smaltimento dei rifiuti speciali. Questa amministrazione si sta adoperando e questa terza commissione sta sollecitando questa amministrazione a che queste discariche che sono presenti per le varie vie cittadine, ormai ben note, vengano rimosse da tutti i materiali che sono presenti lungo queste vie. stamattina c'è stato un cambio dell'ordine dei lavori per così dire perché la commissione stessa ha sollecitato azioni preventive per cui vale a poco che noi risaniamo quell'ambiente, risaniamo quella via e poi dopo qualche giorno la vediamo nuovamente piena di rifiuti. Vengo a sottolineare che l'amministrazione ha tutto l'interesse a tenere in ordine la città però dobbiamo essere noi cittadini a evitare di buttare, di riversare rifiuti di ogni genere lungo le vie cittadine e mi riferisco soprattutto agli abitanti di quel quartiere perché sono proprio loro o parte degli abitanti di quel quartiere che creano questo tipo di mini scariche. Quindi esorto veramente tutti i nostri concittadini che sono vocati di buonsenso, di senso civico a sorvegliare e a segnalare tutti coloro che perpetreranno questo tipo di situazione. Quindi veramente mi appello al senso civico di ognuno di noi.